Siamo usciti intanto all'aperto perché dentro c'è una miriade di ragazzini e ragazzine quindi diciamo che le cose stanno andando bene per questo progetto che ci illustra. Allora è un progetto rivolto esclusivamente ai ragazzini che fanno S3, quindi più piccoli, che ha tre centri, Belluno con la società Dolomiti Volley, San Vendemiano con la società del posto, il San Vendemiano, la pallavolo San Vendemiano e Susegana con la pallavolo Susegana. In questi tre centri l'Academy dell'Imoco che è stata costituita quest'anno sta organizzando appunto questi corsi che una volta si chiamavano di mini volley e adesso invece si chiama S3. Un S3, mini volley, insomma il movimento continua e funziona bene, lo vediamo anche qui a Susegana. Allora il movimento è partito con dei numeri molto importanti, questo secondo me è dovuto principalmente a un fattore che è quello della pandemia, nel senso che questi due anni sono stati molto pesanti, la gente, soprattutto i bambini, hanno voglia di tornare a fare sport e quindi le iscrizioni stanno diventando veramente importanti, i numeri stanno diventando importanti. È chiaro che dietro c'è un nome altrettanto importante con delle caratteristiche di qualità e di livello, di conseguenza il mix ci sta dando della grossa soddisfazione. Aiuta naturalmente aver vinto insomma europeo maschile e femminile, no? Tra l'altro. Ma questo sicuramente ha aiutato tanto perché comunque ci sono stati grossi audience sia per il maschile che per il femminile. L'obiettivo nostro è quello di riportare più ragazzini possibili in palestra perché ripeto sono stati due anni per lo sport, soprattutto il reclutamento molto tragici e quindi l'obiettivo è di riportare i bambini in palestra, riabituarli al gioco, ai rapporti sociali, cosa che in questi due anni chiaramente sono mancati. Un rapporto stretto quindi con l'IMOCO, con questa Academy, quindi molti di questi bambini conosceranno e avranno l'opportunità di vedere le partite poi dell'IMOCO. Certamente, i due presidenti dell'IMOCO, Piero Gaberlotto e Pietro Maschio, su questa cosa sono molto orientati e sono molto interessati. Seguiamo io e la Silvia Giovanardi in particolare il progetto. È chiaro che l'ideale è poi che questi bambini vengano al Palaverde, si appassionino, vedano della Palavolo di alto livello e quindi si crei quell'entusiasmo che poi porta ad avere numeri interessanti. Per tutto il movimento. Buon lavoro. Grazie altrettanto.